Per chiudere, consegno ufficialmente al sindaco le firme. Sono 435 firme, ricordate, che non sono ancora la persona che mi ha detto a poco. E 128 firme dei medici che aveva spiegato Paolo ha racconto in un tempo molto molto breve la dimostrazione del fatto che i medici sono convinti che ci sia qualcosa di negativo nell'impatto sanitario della combustione dei rifiuti. Passo adesso a queste domande al pubblico.